Allora amica mia come devo fare con mio marito? Non mi tocca più, non mi sfiora più, non facciamo più nulla, si mette nel letto così, in bambolata, non facciamo niente, dammi un consiglio. Eh ma tu devi fare qualcosa, devi incominciare tu ad avere qualche, non so per esempio, cambi posizione, un po' di fantasia nell'amore ci vuole, altrimenti... Devo prendere io una nuova iniziativa. Brava, brava, brava. Proviamo, proviamo, devo fare questa prova, mannaggia, madonna sta arrivando, vai, 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 ti saluto, ciao, 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 fammi sapere. Sì, 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 certo, certo, uè amore, amore mio. Che stavate dicendo? No, niente, niente, niente. Stavate parlando male di me. Senti un po' amore mio, senti una cosa, stanotte vogliamo fare una prova. Quale prova? Io mi metto sopra e tu ti metti sotto. Hai comprato il letto a castello? Ciao.